Incontro nella galleria dell'Ipercoop sabato mattina a cura dell'Asle di Taranto e del consultorio familiare Paolo VI. Un flash mob in contemporanea nazionale per sensibilizzare le donne sull'importanza dell'allattamento al seno al fine di sostenere il benessere fisico, psicologico e sociale del neonato. È molto importante ad esempio creare un legame tra mamma e figlio fin dai primi giorni di vita. Dobbiamo promuovere ancora di più l'allattamento al seno perché è l'allattamento per il quale il bambino cresce nel modo migliore, nel modo più sano e soprattutto cresce ancora di più nella relazione positiva con la mamma. L'allattamento previene molti tumori a livello ovarico, a livello di utero, tube, quindi la mamma previene queste malattie con l'allattamento, quindi le donne che allattano rincorrono meno a questo tipo di patologie. Nello stesso tempo anche i bambini, tra i benefici del nutrimento, dell'affettività, della relazione con la mamma, sono bimbi che crescono con meno patologie, nel senso obesità, carie, anche per le carie. Sono bambini un po' più intelligenti, i bimbi che vengono allastati. Questi sono detti dagli studi scientifici, che i bambini allattati al seno sono bambini un po' più intelligenti. Quindi questo è l'allattamento, quindi non solo il nutrimento, è tutto, sia per la mamma che per i bimbi. Abbiamo, con il consultorio di Paolo VI, con il progetto che ci è stato proposto, abbiamo ritenuto fosse un'occasione davvero da non perdere, soprattutto per il centro commerciale e davvero siamo contenti in questa giornata di aver potuto ospitare una manifestazione, secondo me, tra le più belle che abbiamo mai realizzato in questo centro.